Ultime ore prima degli esami di maturità nelle Marche sono 13.624 le ragazze e i ragazzi che affronteranno da domani gli esami di stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione. Di questi 210 sono privatisti, sono 714 le classi coinvolte aggregate in 360 commissioni esaminatrice distribuite in 212 sedi scolastiche. Entro il 30 giugno dovranno invece concludersi gli esami di licenza media i cui calendari sono stabiliti autonomamente dalle singole istituzioni scolastiche del primo ciclo. Alunne e alunni coinvolti sono in questo caso 13.621, ad Ancona affronteranno la maturità 4.104 studenti, ad Ascoli Piceno e Fermo 3.442, a Macerata 2.956, a Pesaro Urbino invece 3.122, mentre gli esami di terza media riguarderanno 13.621 alunni. Ad Ancona affrontano le prove 4.353 studenti, ad Ascoli Piceno e Fermo 3.266, a Macerata 2.720, mentre a Pesaro Urbino 3.282. E a vigilare contro le fake news della prova di stato anche quest'anno c'è la campagna Maturità al Sicuro della Polizia di Stato e di Scuola.net. Le nuove tecnologie, in particolare con il costante sviluppo di aiuti digitali, possono indurre in tentazione, dice una nota che mette in guardia. Possono amplificare errori di comportamento. Quasi uno studente su quattro emerge da un sondaggio di Scuola.net per la polizia, è convinto che durante le prove scritte gli smartphone si possano tenere con sé in postazione, quando invece devono essere consegnati al banco della Commissione, come correttamente dimostra di sapere il 77% del campione interpellato. E se il 17% è consapevole che comunque i telefoni debbono rimanere rigorosamente spenti, il 6% pensa che si possano persino usare, rischiando al massimo di essere richiamati o penalizzati in fase di correzione e non, come potrebbe avvenire di vedere invalidato l'intero esame. La quota di coloro che potrebbero incappare in un uso scorretto dello smartphone all'esame inoltre aumenta del 20% rispetto all'anno precedente, non proprio un buon viatico.